bella a tutti free readers oggi inauguriamo una nuova rubrica che chiameremo study report nella quale parleremo di e riporteremo soprattutto alcuni studi scientifici riguardanti la nostra amata pianta e quindi anche analisi importanti sempre con riferimenti ufficiali perché ci mancherebbe noi non siamo medici non siamo studiosi ma siamo dei semplici ricercatori per passione che riportano fonti ufficiali quindi troverete sempre sotto nei commenti il link con il riferimento dello studio ogni volta che ci sarà un aggiornamento su questi studi e oggi partiamo subito con uno studio che arriva dal journal of international neuropsicological society questo studio è importantissimo perché affronta uno dei miti che insomma attanagliano lo stigma cioè la svogliatezza nei consumatori non chi ne fa uso e andiamo a vedere cosa dice questo studio che ha affrontato la tematica su sondaggi su 400 adolescenti con 5 sondaggi per ogni adolescente affrontando delle tematiche varie come emozioni conizione comportamenti dopo l'uso e a andiamo a leggere direttamente sottolineato che non esiste nessun nesso causale tra svogliatezza e utilizzo e quindi va a smentire sostanzialmente quello che è un po uno degli stigma appunto della cannabis che viene sempre riferito a chi fa uso e non ne vuole di fare nulla e quando in realtà i dati scientifici dicono che non è così e questo studio vediamo anche nella sua introduzione va a dire che come anche riportato da molti studi precedenti e quindi non è nemmeno il primo in questo campo che va a fare questo tipo di sottolineatura importante che noi ci teniamo a diffondere perché è importante anche diffondere dati scientifici oltre a opinioni e rilevazioni politiche bella a tutti e fateci sapere cosa ne pensate di questo studio e di questa rubrica continuiamo a diffondere informazione fino alla libertà grazie a tutti